Troppi allarmi inascoltati sulla riserva d'Annunziana, questo quanto dicono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Pescara. Quali sarebbero questi allarmi che non sono stati ascoltati? Sicuramente parliamo di tutte le avvisaglie che c'erano state già nei mesi di maggio e giugno con i primi episodi di roghi e incendi che avevano interessato diverse zone della riserva e che avevano spinto il Movimento 5 Stelle ad avanzare quella mozione per chiedere l'istituzione di un servizio di vigilanza ambientale all'interno della riserva appunto per evitare situazioni di questo tipo. Quindi diciamo che dopo questa tragedia che poi domenica è venuta a verificarsi siamo qui per aprire un ragionamento anche su quelle che possono essere le responsabilità politiche a margine di questa vicenda perché poi quella mozione è stata approvata ma a questa è seguito un mese di nulla senza che niente di concreto sia stato veramente messo in campo per strutturare questo servizio. Oggi non possiamo sapere se la pronta istituzione di quel servizio sarebbe stata sufficiente per evitare una tragedia di queste proporzioni però sicuramente ne avrebbe magari attutito le conseguenze. Queste avvisaglie erano state in realtà raccolte anche dal Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto che già nel mese di giugno dopo quelle prime avvisaglie aveva verificato che fosse necessario alzare il livello di attenzione sulla riserva anche con l'istituzione di videocamere e fototrappole e anche quella segnalazione è rimasta senza alcun seguito. Troppo è troppo facile battersi il petto quando fino a ieri in realtà non si è fatto nulla di concreto quindi oggi è il momento di iniziare veramente a lavorare.